Lo sportello del cittadino nel ruolo di sportello della consigliera di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Ginalupo, sta affrontando tutta una serie di tematiche, di problematiche meglio, che sono presenti ma occorre affrontarle per prevenirle e soprattutto per prevenire i tempi, per muoversi prima che il dramma si sia consumato. Oggi affrontiamo una problematica che ha un nome, una denominazione, un termine inglese, lo scamming. Di cosa si tratta? È una truffa che viene utilizzata attraverso i social, attraverso un sistema di webcam, cioè attraverso la rete, in cui viene carpita la fiducia di una malcapitata o di un malcapitato. Nel caso di una donna si tratta di un uomo che ruba l'identità ad una persona magari effettivamente esistente, mette in rete un'immagine con un nome vero, ma in realtà lui è tutt'altro di quella persona, c'è un vero e proprio racket dietro a questa questione, e capisce la buona fede, comincia a entrare in simpatia con la donna che magari sta attraversando un momento di solitudine o magari è sola, comincia a diventarne amico, comincia a essere una presenza presente nella vita di questa persona. Questa donna si innamora di quest'uomo che però non è il nome o l'immagine che vede in internet, gli racconta la sua vita, viene rubata la fiducia a questa persona e poi ahimè all'improvviso a quest'uomo Luigi, perché fanno sempre lavori molto affascinanti, sono diplomatici in pensione, sono operatori della NATO. La distanza poi ovviamente favorisce questa idealizzazione, no? Sì, sono stranieri, parlano benissimo il francese, è un italiano un po' traballante o l'inglese, quindi questa donna è affascinata dall'aver interessato, di aver fatto innamorare di sé un uomo così affascinante e misterioso, ad un certo punto quando la preda ormai è nella rete a quest'uomo capita un viaggio all'estero e ahimè durante il viaggio all'estero viene rubato, viene rapinato dei suoi averi, gli tolgono i documenti, quindi chiede aiuto alla sua amica virtuale, alla sua innamorata, meglio virtuale, perché poi ancora non si sono incontrati, perché non si incontreranno diciamolo mai, perché i pretesti sono tanti e gli chiederà di inviargli delle somme di denaro per pagare il conto in albergo, per pagare i biglietti aerei per poter tornare in Italia e guarda è tutto ben falsificato, addirittura abbiamo delle foto di biglietti aerei che sono veri, ma in realtà non sono quelli, se la donna clicca il nome che corrisponde a quella foto troverà effettivamente che esiste un pensionato della Nato che si chiama così, che è un uomo americano affascinante, magari è ben vivo e vegeto e vive con la sua famiglia, è convinta di poter avere quella persona con un amico, in realtà così non è. Purtroppo i denari che vengono mandati sono tanti e questi reati non vengono denunciati, anche perché è molto difficile Luigi andare a identificare gli autori, è una truffa bella e buona e per cui anche con la polizia postale, perché poi incontriamo anche dei limiti nelle norme internazionali, negli scambi di denaro internazionale, non è possibile risalire ai veri autori.